Sì, insomma non sono molto contento del gioco, secondo me non abbiamo giocato al nostro livello o meglio a tratti sì, però abbiamo dei blackout che oggi per fortuna ci è andata bene ma molte volte ci è andata male e quindi dobbiamo lavorare su queste cose. Sì, diciamo che la cosa che ci ha permesso di vincere è che nonostante tutto siamo rimasti sempre lì, però commettiamo ancora troppi errori che ci fanno andare sotto e questo dobbiamo cercare di limitarlo, ma è ancora troppo lontano, ovviamente siamo contenti, sappiamo che possiamo andare a fare bene contro una grande squadra, non sarà facile, però adesso ci godiamo questa sera il passaggio del turno, ma domani si pensa a Vibo, ma speriamo, speriamo, noi ovviamente entriamo in campo per vincere, diamo il massimo e poi quello che succede, succede, sappiamo che Vibo è una squadra in forma, sta giocando bene, però noi sappiamo quali sono le nostre capacità e dobbiamo cercare di sfruttarle.